Qual è la strada giusta da percorrere per arginare, diminuire fino a sconfiggere il fenomeno della violenza contro le donne? Farlo emergere in tutti i campi, farlo emergere all'interno della società, farlo emergere all'interno delle famiglie, aiutandosi con la rete familiare, farlo emergere nell'istituzione e fra l'istituzione e farlo emergere in ogni ambito, familiare, sociale e politico. Questo è l'importante, parlarne e farlo, tirarlo fuori dal sommerso.